Il 2013 è stato un anno in chiaro scuro per l'attività del Consiglio regionale del Molise, anche se va riconosciuto che la Presidenza di Palazzo Moffa ha promosso e ben organizzato le celebrazioni per il 50esimo anniversario dell'autonomia regionale. Ora si attende la visita del Presidente Giorgio Napolitano. La conclusione delle celebrazioni arriveranno con la presenza, se Dio vuole, nei primi mesi di quest'anno del Presidente della Repubblica. La presenza del Ministro della Difesa, il Senatore Mauro, ha accettato l'invito mio di partecipare a questa tavola rotonda, testimoniando che il Molise deve mantenere la sua autonomia. E questo era quello che era nell'interesse nostro, quella di avere lo Stato che riconoscesse a questa ventesima regione la propria autonomia. Noi credo che dovremmo andare in quella direzione. Il 2013, Presidente, è stato anche un anno in chiaroscuro, diciamo così, per l'istituzione Consiglio regionale? Direi di no, non è stato un anno chiaroscuro. Considerato che la legislatura è partita il 9 aprile, con tutte le difficoltà dei nuovi entrati in Consiglio regionale. Poi ci siamo trovati di fronte ad un momento molto brutto a livello mondiale, che è quello della crisi economica e finanziaria, però bisogna anche dire che ci siamo trovati di fronte a una sospensione della promulgazione dello Statuto che era stato già fatto nella precedente legislatura. Ma si è dovuto recepire quella che è stata il decreto Monti e con tutte le conseguenze che poi sono venute fuori. Io non mi stancherò mai di dire che proprio su questo aspetto abbiamo oggi, possiamo dire che siamo, se non la prima, la seconda regione più virtuosi d'Italia rispetto alla riduzione dei costi della politica. Certo, per l'amore del cielo, c'è sempre da fare qualcosa in più, ma credo che noi abbiamo fatto parecchio, avendo trovato purtroppo, ahimè, su relazione degli ispettori generali della ragioneria dello Stato, una situazione abbastanza difficile che ancora non si riesce a mettere a posto. Quali sono le priorità per il nuovo anno invece per il Consiglio regionale? Innanzitutto bisogna affrontare da subito la programmazione, diciamo l'ultimo appuntamento probabilmente con la comunità europea sulla programmazione 2014-2020, così come le grandi riforme che vanno fatte, insomma c'è da lavorare parecchio cercando di tracciare, dare a questa regione una connotazione più avanzata, magari proprio per la sua dimensione ridotte, forse probabilmente possiamo fare da pionieri rispetto al resto delle altre regioni.